Continua la parata di Big a Salerno in vista del referendum costituzionale di dicembre. Non solo i partiti ma anche le associazioni di categoria in campo per le ragioni del sì. Questa mattina Confindustria ha ospitato un appuntamento che ha visto fra gli altri la presenza del presidente della Commissione Esteri-Senato, Pierferdinando Casini. È importante che l'associazionismo si muova perché qui c'è chi vuole distruggere il paese, ma c'è anche chi vuole salvarlo, chi vuole dimostrare che l'Italia può essere riformata, chi non è interessata al cartello di risentimenti che oggi si oppone a Renzi, chi vuole andare avanti con uno spirito anche di modernizzazione. Penso che il nostro possibile lavoro in questi mesi deve essere proprio quello di far capire alla gente che un'Italia irriformabile serve solo a Grillo, non agli altri. A fare gli onori di casa, la guida degli industriali salernitani Mauro Maccauro con il comitato così. La presenza di Casini qui testimonia l'interesse, l'importanza di questa riforma referendaria come sistema Confindustriale. A livello nazionale, a Salerno, siamo schierati, posizionati convintamente per il sì e questa è un'occasione importante per lanciare un messaggio. Chi vuole bene al paese, chi vuole modernizzare questo paese deve votare sì.